Se è con voi un nuovo video, sarete super felice perché questo è il video sull'acrigel, ce l'abbiamo fatta a registrare il video su Passione Unghie, l'ho provato su di me, adesso sto tenendo altri acrigel da testare e da provare, intanto partiamo subito con questo. Vi faccio una premessa, mi è piaciuto tantissimo come prodotto in generale e anche quello di Passione Unghie, poi nel dettaglio come ho fatto la procedura, i prodotti utilizzati, rimando dopo, però volevo un attimino spiegarvi cos'è l'acrigel. L'acrigel non è altro che un sistema che mixa insieme due sistemi molto conosciuti che è la ricostruzione in acrilico e la ricostruzione in gel, perché è un unico prodotto, si lavora come l'acrilico, polimerizza, quindi catalizza in lampada, non scotta, non cola ed è comunque abbastanza denso ed è una densità diversa rispetto al gel classico. Mi sono trovata da Dio come sesura, adesso entro nei dettagli a spiegarvi quali sono secondo me i vantaggi. I vantaggi sono prima di tutto che potete lavorare più unghie, addirittura anche tutte e cinque insieme perché non cola. Come vi dicevo prima, non scotta, è denso quindi è anche facile da lavorare, non ha un odore sgradevole, tra virgolette, perché io non lo trovo sgradevole come l'acrilico e è comunque molto resistente e a dire la verità io ho fatto anche il test di pieggiare le unghie ed è più resistente del gel stesso e tra le altre cose comunque è facile da lavorare, un punto a suo vantaggio. Anche dei piccoli svantaggi quali sono? Richiede la stessa manualità dell'acrilico, quindi se non sapete usare l'acrilico in teoria non sapete usare questo, anche se io lo trovo molto più facile imparare questo che imparare ovviamente l'acrilico. Servo un pennello apposta solo per questo prodotto e l'acquisto ovviamente di quello che compone questo sistema a parte, quindi bisogna valutare un pochettino se vi interessa o meno fare questo investimento, questo acquisto, se volete provarlo, non volete provarlo, siete all'inizio, insomma dovete un po' valutare voi. Stavo dimenticando una cosa molto importante, ho anche riscontrato una fallicilità incredibile di questo prodotto durante la limatura, l'ho limato velocemente, ha fatto meno polverina rispetto comunque al solito, quindi per me è stato un punto veramente favorevolissimo nell'applicazione. Andiamo velocemente a spiegare un po' la procedura. La procedura è un po' come il classico sistema del gel o dell'acrilico, quindi ha la preparazione nel solito modo, io non ho steso un velo sottile di base, dopodiché si passa appunto a utilizzare il prodotto. Io ho preso solo l'acrigella di passione unghie come cover pink, perché non mi interessa al momento fare nulla di diverso che una copertura classica, la limiamo, poi andiamo a mettere il colore e sigilliamo come avviene. Qual è il vantaggio? Che comunque essendo più veloce riduce molto i tempi. Nella realtà secondo me si può anche benissimo usare senza la base, io per sicurezza non conoscendo il prodotto ho utilizzato la base, però pensandoci bene un po' come l'acrilico, con l'acrilico tu non usi prima una base gel. Io l'ho utilizzata diciamo per sicurezza, anche perché è un sistema nuovo, non lo conosco e quindi ho preferito fare in questo modo. Ci sono ormai tante case che vendono questo prodotto, bisogna capire ovviamente la durata, la resistenza, ma penso che le case ormai famose anche nel web facciano prodotti molto competitivi. Onestamente ce l'ho su già da una settimana, non ho nessun tipo di problema, mi sembra veramente un buon buon sistema. Sono curiosa, non adesso in questo momento, ma sono curiosa di provarlo sulla mano opposta, che voi sapete che comunque la mano opposta è quello che impiega più tempo nel lavoro, nella struttura, quindi sono molto curiosa di capire se applicando con la mano opposta che risparmio di tempo, che vantaggi ho. È un prodotto comunque innovativo e io sono stata molto contenta di acquistarlo e provarlo. So che tantissimi di voi erano curiosi e quindi questo è il video. Questa è la breve introduzione appunto sull'acrigel, vi ho detto che mi sono trovata molto bene, non vorrei perdere troppo tempo in questa introduzione facendovi vedere esattamente come l'ho eseguito. Vi ricordo che si possono fare delle strutture molto sottili anche con questo prodotto e resistenti. Sarei curiosa, qualcuno di voi potrebbe anche rispondermi, di vedere come si comporta sulle unicofagiche. Perché voi sapete, io ho fatto un video sulle unicofagiche che vi linko qua sotto, il problema delle unicofagiche è che il gel se lo mangiano e in teoria l'acrilico è l'unica cosa che salva un po' la situazione. Bisognerebbe vedere o fare delle prove per capire come si comporta questo prodotto in questi casi. Vabbè, adesso mi sto dilungando troppo, vi lascio alla parte pratica del video e fatemi sapere cosa ne pensate. Un grosso bacio, ciao! Questo è il risultato finale, ovviamente poi io sono andata a farci sopra una nell'arta, quindi non ho badato tanto al sotto e comunque vi voglio far vedere le procedure. La procedure è la classica di una ricostruzione, quindi io deidrato l'unghia con quello spray, quella penna, dopodiché passo comunque il primer solo dove c'è la ricrescita, perché comunque io non ho tolto tutto il gel precedente. Dopodiché questo è il primer acido classico e poi io utilizzo l'acid free, perché la mia casa che sto utilizzando permette questo. Voi ovviamente utilizzate quello che più credete idoneo. Ora prendiamo una base, la stendiamo comunque a monocolore su tutta la superficie, poco prodotto, picchietto bene dove c'è la ricrescita come state appunto vedendo dall'immagine, faccio tutte le unghie e le metto in lampada a catalizzare. Insomma, questa prima parte dovreste conoscerla molto bene. Ora arriviamo a noi. Prendiamo un bicchierino, va benissimo questo qua in vetro, prendiamo questo prodotto che è l'acrylic gel solution apposta per utilizzare l'acrilico di passione unghie, l'acry gel scusate, e questo colore che è il colore over pink, che è il colore che ho scelto io, però nel sito ce ne sono veramente tantissimi. E in più ci vuole un pennello apposta per l'acry gel e se io ho utilizzato o più che altro ho comprato quello, dove ha da una parte la spatolina e l'altro il pennello. Ovviamente voi potete anche prendere quello che avete in casa che non usate per i gel. Ora con l'aiuto del pennello mettiamo un po' di soluzione nel bicchierino e questo trucco serve per non fare sbordare la soluzione fuori. Ora cosa facciamo? Spingiamo il nostro barattolino, prendiamo un po' di prodotto e lo posizioniamo sull'unghia. Questa è la prima 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 prova fatta, tant'è che vi faccio vedere che non ho ancora ben chiaro quanto prodotto dosare sull'unghia, quindi ne ho preso un po', poi sono andata a scaricare perché mi sono resa conto che ce n'era troppo. Qual è la particolarità? Voi mettete questo prodotto denso sull'unghia, dovete bagnare il pennello con la soluzione e iniziare a lavorare, perché se voi non fate questo mix avrete appunto questo materiale denso che si spossa sulle unghie ed è come se si sgretolasse, invece con la soluzione diventa più liquido e riusciamo comunque a spostarlo bene e a fare la nostra struttura. Ovviamente la struttura la fate come meglio credete, con quale sistema voi utilizzate e l'importante è che ci sia una buona struttura. Io faccio le unghie molto sottili, voi lo sapete già, non ho problemi perché la struttura è ben posizionata non mi si sono mai rotte anche quando sono lunghissime, quindi anche tutti i commenti che ogni volta mi vengono scritti che le unghie sono troppo sottili si rompono, non è mai capitato né a me né alle persone a cui le faccio, non sono tante, però ce ne sono un paio a cui comunque faccio le prove, faccio i test, le utilizzo per provare prodotti nuovi, insomma qualche esperienza potrei anche avercela. Comunque mettiamo poi lampada a catalizzare. Ora vi faccio vedere che ho fatto anche un'altra unghia e qua ho cominciato ben bene ad usare il prodotto. Come vi dicevo ce ne sono diversi in arrivo di Acry Gel anche perché voglio vedere le differenze, voglio testare le caratteristiche dei vari prodotti, però come vi dicevo anche nell'intro è un prodotto che mi è piaciuto tantissimo, molto facile da utilizzare a mio avviso, ovviamente dovete avere un minimo di cognizione di cosa parliamo, di struttura e di gel, però mi è piaciuto veramente tantissimo e secondo me ha anche un po' velocizzato la situazione, quindi super super promosso. Ora vi faccio vedere appunto come sto cercando di perfezionare il tutto, non badate perché io poi limo dopo le unghie, quindi le trovate super lunghe. Quando abbiamo catalizzato e fatto tutte le nostre unghie andiamo a sgrassare e dopodiché iniziamo la limatura classica dall'esterno verso l'interno di tutte le unghie. Dopo il passaggio successivo sarà applicare il colore. Vi metto qua sotto qualche video in più sulla ricostruzione, sulla preparazione perché comunque non avete visto anche la manicure, perché ovviamente ho saltato questo procedimento. Questo è il risultato finale della crigella dove io poi ho applicato un colore, ho applicato e fatto una nail art, se no a questo punto potete anche eventualmente sigillare, però vi consiglio di prendere un colore un po' più scuro di questo, perché questo è il classico cover pink che rende il letto ungueale abbastanza rosato. Come vi ho detto mille volte in questo video, questo prodotto mi è piaciuto, quindi pieni voti e il marchio passione unghie di questo prodotto, pieni voti, quindi 10 elode. Fatemi sapere qua sotto chi ha già provato, le vostre impressioni, insomma fatemi sapere tutto. Al prossimo video, un grosso bacio, ciao!